Il panoramico campo sportivo Antorella de Rigo a Fiammes ospiterà la prima fase della preparazione estiva della Fiorentina. In programma tre gare amichevole e tante iniziative dedicate ai tifosi viola. La prima partita si disputerà il 17 luglio contro il calcio Cortina, poi altre due amichevoli in programma, il 21 e il 24 luglio. Agli spettatori presenti sarà poi messo in palio come sorteggio legato al biglietto acquistato un premio particolare poter conoscere i calciatori viola. Ma le opportunità per il mondo dei tifosi non si fermano qui. I possessori della Tesla Orgoglio Viola potranno accedere gratuitamente agli impianti GIS, piscina e stadio del Viaccio e potranno avere uno sconto sull'accesso alla funivia Lagazzuoi. Speciali promozioni sono anche a disposizione per alloggi o per delle vacanze. Tutti i dettagli li trovate su violachannel.tv Grazie a tutti.